Una delle mie ricette ungheresi preferite è senz'altro quella dei pocaccia. Non sono altro che dei piccoli panini, in questo caso al formaggio, che sono i miei preferiti. Per prima cosa scaldo il latte, deve essere leggermente tiepido e vi aggiungo lo zucchero e il lievito. Lascio a riposare e nel frattempo lavoro la farina con il burro, che deve essere abbastanza freddo e va sbriciolato nella farina fino ad ottenere come della sabbia bagnata, è quella più o meno la consistenza. A questo punto aggiungo un uovo e mezzo, quel mezzo uovo tenetelo da parte perché servirà alla fine, e lo yogurt greco. Non credo di averlo ancora accennato in questo video, ma questa ricetta è la mia personalissima, che è una fusione fra la ricetta di mia nonna e quella di mia madre, più qualche piccola inventiva della sottoscritta, come ad esempio lo yogurt greco. L'impasto ora dovrà lievitare circa un'oretta. Io di solito lascio l'impasto coperto con la pellicola nel forno con la luce accesa. Mentre l'impasto lievita, mi occupo di grattugiare il formaggio, che servirà sia nell'impasto che come decorazione esterna. Dopo aver aggiunto parte del formaggio all'impasto, lo stendo e inizio a coppare i vari pogaccia. L'altezza va un po' a gusti, a me piacciono piuttosto alti, quindi non scendo mai sotto il centimetro. Prima di infornare, spennello i pogaccia con l'uovo che è avanzato da prima e ci metto sopra un po' di formaggio. A questo punto sono pronti per essere infornati. Un trucchetto che mi ha insegnato mia nonna è quello di utilizzare l'impasto avanzato dei pogaccia per fare dei bastoncini. L'impasto è lo stesso come il procedimento, solo che cambia la forma e in questo modo non si butta nulla dell'impasto. Ed eccoli qua belli pronti, esternamente sono croccanti mentre l'interno rimane leggermente umido. Io li adoro, spero possano piacere anche a voi. Sono veramente buoni sia col formaggio che con le patate. Se vi capita di andare in viaggio in Ungheria, provateli. Io spero che questa piccola ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti.